allora ragazzi sto per partire per un viaggetto prima voglio fare un piccolo resume come dicono i francesi ormai la situazione che si è creata insieme alla juventus la storia dell'allenatore è una vera e propria guarda di religione diciamo ci sono quelli schiarati a favore della venuta di guardiola e quelli che sono invece schiarati a favore della venuta di sarri il problema non è tanto il fatto che ci sia una fazione che possa vincere una fazione che possa perdere il problema che ognuno ovviamente delle due fazioni porta come cavallo di battaglia le proprie diciamo tesi le proprie conoscenze e soprattutto le proprie fonti perché presumo che chi si batte per un per uno piuttosto che per l'altro abbia delle fonti io per esempio parlo a titolo personale non mi permetterai mai di sostenere la tesi guardiola se non avessi delle abboccature che mi dicono che viene guardiola perché a me sinceramente cioè se non avessi avuto nessuna informazione sarei basito nel vedere che ci sono degli schieramenti così ben definiti ben netti cioè chi vuole guardiola ok chi dice che guardiola rifiuta categoricamente sarri chi dice che viene sarri rifiuta categoricamente guardiola cioè ripeto ormai è un guardiola verso sarri è un salvi verso sguardiola poi però alla fine al fine ci dimentichiamo che questi due individui chiunque dei due venga la juventus cioè devono allenare la juve ok siamo già a quasi 10 di giugno il ritiro c'è esattamente fra un mese il 10 di luglio la campagna d'acquisti è praticamente non è ancora incominciata perché se voi mi dite che demiral e romero sono due grandi acquisti allora io sono zio paperone ok oppure pluto come preferite insomma secondo dei detrattori no e quindi il discorso è molto semplice cioè la juventus deve secondo me giungere a più miti consigli come si può dire cioè prenda una decisione ok nei momenti cui perché è chiaro che li ha tutti e due li sta trattando entrambi ma è molto chiaro cioè penso che qui non ci siano fazioni che negano questa cosa ok e lo si capisce dall'ansia lo si capisce dalla preoccupazione che tutti hanno dalle mille domande delle mille di mille dubbi oserei dire i mille dubbi perché ormai ti fanno ti fanno venire i dubbi io ho dei cari amici che si fidano di me però giustamente anche loro stessi mettono in discussione quello che io dico nei miei video ma guardate a volte a volte quando faccio i video dove porto la mia conoscenza sull'arrivo di guardiola in base a ciò che so che mi hanno riferito metto io stesso in dubbio che chi mi sta dicendo queste cose non menta perché chiaramente so che non menta perché conosco la persona ma che probabilmente non sia così ben informato come magari mi vuole far credere ma non perché lui vuole millantare cose che non sono realmente vere è perché probabilmente si è creata questa ormai dicotomia netta fra chi vuole proprio vuole guardiola e chi invece non vuole guardiola perché la categoria di quelli che vogliono sare secondo me è nata da quelli che non vogliono guardiola quelli che io definisco gli anti juventini guardate un esempio molto semplice poi chiudo la stampa e i giornali e i media dove sono allora gazzetta dello sport è a milano sicuramente non sono molto molto teneri con la juventus guardate 2006 calcioppoli che cosa hanno combinato ok quindi inter soprattutto inter ma ma se devono scegliere fra juventus e milan scelgono il milan quindi inter e juventus la juventus è l'ultima ruota del carro allora corriere dello sport roma lazio napoli e ovviamente poi lo sapete no quanto odiano la juventus per cui inutile che ci torniamo c'è i più grandi anti juventini sono a roma e a napoli mai capito perché perché voglio dire hanno vinto tre scudetti tutta la loro storia quindi voglio dire cioè non lo scherziamo non avete mai avuto la squadra da poter lottare con la juventus a parte negli ultimi anni forse ma poi neanche ok passiamo alla tutto sport è un giornale che io sinceramente detesto perché per me è un giornale banderuola cioè segue la corrente ok segue la corrente quindi stendiamo un velo piuttosto su tutto sport non voglio neanche definire un giornale filo juventino veniamo ai media sky sport sky sport è da sempre da sempre filo milanese cioè inter milan l'anno scorso hanno rotto i maroni per un mese con modric all'inter quando tutti quanti io compresi non avevo il canale ma io sapevo per certo che modrici non si sarebbe mai mosso dal real madrid eppure un mese ok ma non si poteva dire niente perché lo diceva sky lo diceva di marzio ok cioè ma stiamo scherzando mediaset cioè vogliamo parlare di mediaset di chi è mediaset di chi è secondo voi una un'azienda che fa a tv di cui proprietario è milanista fino al midollo parla bene della juve spinge che la juve possa avere un guardiola cioè il problema forse non l'avete capito che chi sostiene le tesi sarri avrà sicuramente qualcosa in mano avrà gli abboccamenti di ramadani con con i giornalisti con i media il problema però che secondo me la juventus in questo momento sta facendo tutto il possibile per prendere guardiola perché come ho già detto in un video e non lo voglio più ripetere se fosse sarri il prescelto the chosen one come dicono gli americani ok l'avrebbero già appreso sarri non è l'araba fenice sarri non è l'oscar di hollywood sarri è un ottimo allenatore ma è come quando la juve prese allegri ci mise due ore a prendere allegri ok non tirate fuori la storia che è legato al celsi che non si può slegare dal celsi costa 5 milioni di euro la clausola liberatoria ok secondo voi la juve non ha 5 milioni di euro da dare a abramovic per liberare sarri non ce li ha ragazzi allora smettiamo di tifare juve e mettiamoci a seguire il curling o mettiamoci a seguire altri sport ok quindi signori io basta il video di guardiola che è vecchio perché il video di guardiola è vecchio è del 19 maggio stato registrato dopo la finale di fa cup ed è utilizzato verrà utilizzato per la seconda season della stagione sul manchester city che potete vedere su netflix e su amazon prime video amazon prime video ok come vedete io le cose le so non è che me le invento le so ok poi se voi volete credere che il video che ieri il manchester city ha messo sul suo profilo twitter ok sia un video dove lui dice la juve non vengo secondo me o non avete capito niente o vi fate prendere per il naso ok a me sembra più un video dove loro cercano di aggrapparsi a rampicarsi sugli specchi ok è quasi un commiato di di guardiola al city come per dire lui c'è tanto amato però tutto tutto un inizio e tutta una fine quindi era giusto per chiarire il discorso di del video pubblicato da guardiola però vi do un consiglio andate a cercare su youtube il video in cui monblano spiega chiaramente ok da tele lombardia tutto questo ok tutto questo oppure su juventibus live quindi discorso molto semplice la juventus secondo me si è inceppato qualche cosa nella trattativa con guardiola qualcosa ancora non è stato ben definito è chiaro che può saltare si chiama trattativa si chiama trattativa io vado in un negozio voglio comprare un televisore decido che mi piace decido che quello che voglio il negoziante mi fa un prezzo buono io dico ok passo a prenderlo passo a prenderlo perché magari non ho con me la carta di credito oppure magari devo parlare con mia moglie vado a casa convinto che il giorno dopo andrò a prendere il televisore succede qualche cosa che per un qualsiasi motivo x non può permettermi non posso permettermi io il giorno dopo devo comunicare al negoziante per correttezza che non mi interessa più e che ho scelto un'altra cosa o addirittura ho rinunciato questo è quanto per cui signori belli io vi auguro una buona giornata un buon weekend oggi è sabato io oggi spero di non fare intanto per cominciare sappiate già tranquillizzatevi perché fino a lunedì non succederà nulla sario guardiola che sia non succederà nulla voi lo sapete che sabato domenica la juventus non ha mai combinato niente nella sua storia ok poi magari posso essere smentito ma non credo proprio non credo proprio quindi signori belli buona giornata buon weekend e farò altri video sicuramente farò altri video ma non spero di non nella juve recensioni su fumetti su magari un videogame lezioni di corsi no non ne faccio oggi perché non voglio però ripeto devo andare a fare un viaggetto di un paio d'ore quando poi rientrerò qui dove sono in vacanza vedo se succede qualcosa ci risentiamo altrimenti state bene e rilassatevi che la guerra guardiola sarri non è ancora terminata ciao a tutti